Allora, prima volta lascivi tu a tutto il sozzo del lavoro, fatte vedere! E te ci hanno nominato per farti venire a lavorare? Ma te non c'è un cazzo a fare? Ti ho dovuto dare una cosa. Chiè? Mettila via, non la voglio. Vabbè. Te cazzo? Mettila via, ho detto. Ancora non ti basta? Fino a dove vuoi andare? Fidateci. Trovate una donna, sistemate pure te. Vittorio. Te devo dire una cosa. Che? Senti, alla fine me la so fatta, Viviana. Però non è stata la colpa mia, si è buttata... Un altro che cazzo c'è. Non era la zia mia. Sto con Linda adesso. Vabbè, però me lo vuoi dire. Che te lo vuoi dire? Era così brava. Questa Linda? Com'è? A canna c'è. E' brava pure lei? Eh? E va bene pure lei? Ti ho detto a canna c'è! E' brava pure lei. Oh! 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 Vedi che m'è a canna c'è... Pesso de merda. Ma non è sciato solo, de ne sei andato per i cazzi qua! Un boccascio lavoro io! Ma che vuoi lavorare? Guardate, stai fatto come una pigna. Dammi queste cazzole pasticche. Dammi queste cazzole pasticche. Ho detto dammi queste cazzole pasticche. Vedo io. Dammi. Che devo? Le devo buttare. Che cazzo butti? Le devo buttare. Oh ma che cazzo butti? Vattene a dormire. Ti ho capito domattina alle 6. Alle 6? Ma no. Al cantiere, no. Al cantiere? Si. Ti porto con me. Mi porti con te? Si. Ai 6. Dai io.